Trieste in testa ai porti italiani e nella top 20 a livello continentale. Il dato arriva da Eurostat, l'ufficio statistica della Commissione Europea pubblicato il 24 febbraio con l'aggiornamento al report completo dei traffici marittimi continentali nel 2013. A guidare la classifica per nazioni è sempre l'Olanda con 584 milioni di tonnellate movimentate in quell'anno, mentre l'Italia mantiene la terza posizione dopo l'Olanda e Regno Unito pur perdendo traffico, meno 4,1%. Ottime notizie come detto per il porto di Trieste che sale di tre posizioni nella classifica dei più importanti porti d'Europa passando dal 17 al 14 posto e guadagnandosi la palma di primo scalo d'Italia per tonnellaggio di merce movimentata, 46 milioni di tonnellate. Dopo Trieste in ambito nazionale arriva Genova con 40,8 milioni, staccate di tre posizioni rispetto a Trieste e in arretramento di una posizione nella classifica europea. Eurostat illustra però un altro dato rilevante, quello della percentuale di crescita o contrazione dei traffici nei 20 scali marittimi più importanti d'Europa. Anche in questa classifica Trieste ottiene un risultato lusinghiero, segnando una percentuale di crescita sull'anno precedente pari al 9,1%. Meglio di Trieste, di poco, hanno fatto solo il Pireo in Grecia e Ambarli in Turchia se si esclude il consistente segno positivo di Amsterdam, dovuto però all'inclusione nel proprio comprensorio del porto di Velsen, operato proprio nel 2013.